Amici di Futsal Funner, per la prima giornata del campionato Under 21, il Football Club Al-To-League ospita la Capitolina. Attenzione alla progressione di Marras che col sinistro fa 1-0. Gran bel gol di Marras che se ne va sulla sinistra e incrocia, bacia il palo e gol. Adesso va il Football Club in contropiede, perde il pallone, poi lo recupera, 3 contro 1, spreca. Capitolina in possesso, De Cicco protegge, va via De Cicco di forza e fa 2-0. Gran gol del numero 11 ex Carly Sport che protegge la sfera, si libera dell'avversario e mette il doppio vantaggio per gli ospiti. Capitolina che va in avanti, De Cicco riceve, pallonetto, gol di De Cicco, doppietta per lui. Che freddezza per questo ragazzo che stoppa davanti alla porta e fredda il portiere per la seconda volta consecutiva. In avanti il Football Club, palla sulla sinistra, moglie, doppio passo, se ne va, punta Bruni che para. Protegge il pallone Di Maula che riceve la sfera e fa gol, 2 contro 0 della Capitolina. E adesso sono 4 le reti di vantaggio per gli ospiti, segna il fuori quota Claudio Di Maula. Calcio di punizione per il Football Club, è una finta, va Facchini, 4-1. Gol della bandiera per il momento per il Football Club, lo fa Facchini che con il destro va a battere Bruni. Cerchiari punta l'avversario, lo salta col sinistro, fa il quinto gol per la Capitolina. Pocherissimo lo segna Maurizio Cerchiari che dopo aver sprecato qualche occasione segna la sua rete. Tiro libero De Cicco contro Panico, segna De Cicco, tripletta personale. Giornata di gloria per il numero 11 che non è in forma, detta del mister, ma fa 3 gol. Contropiede del Football Club, punta Bruni che va a parare, bravissimo l'estremo difensore. Adesso la Capitolina in possesso ma finisce qui, l'arbitro fischia per 3 volte. La Capitolina vince 6-1 sul campo del Football Club al Tulive.